Si erano intrufolati in un'abitazione in aperta campagna, Nocera Inferiore, ma sono stati beccati con le mani nel sacco dai carabinieri del reparto territoriale Nocerino. In manette due noti pregiudicati della città, AM e CB, queste le iniziali dei loro nomi rispettivamente di 24 e 61 anni, stavano consumando un furto all'interno di un'abitazione in aperta campagna. I due uomini, sorpresi mentre erano ancora dentro la proprietà isolata, hanno cercato di guadagnare la fuga aggredendo i carabinieri che li avevano scovati, venendo però immediatamente bloccati. Il pronto intervento delle forze dell'ordine ha consentito di recuperare e restituire al legittimo proprietario i beni rubati. I carabinieri hanno sequestrato pure alcuni attrezzi atti allo scasso, trovati in possesso dei pregiudicati. I due ladri dovranno rispondere anche di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. In azione anche i carabinieri della stazione di Angri che hanno denunciato per rapina tre persone, due delle quali già note alle forze di polizia. Questi uomini nel weekend avevano aggredito e derubato un giovane transessuale che si stava prostituendo in via nazionale ad Angri. I tre sono stati individuati grazie alla descrizione fornita dalla vittima che è stata anche colpita con calci e pugni allo scopo di sottrargli la borsa contenente denaro e altri effetti personali. I carabinieri li hanno trovati ancora in possesso della refurtiva che è stata recuperata. I tre balordi sono stati accusati di rapina e ricettazione.